signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale con questa settimana iniziamo a parlare di uno dei concetti più importanti che c'è all'interno della teoria narrativa cioè le linee narrative è qualcosa che credo di aver già utilizzato un sacco di volte come termine ma mi sono reso conto di non averlo mai spiegato ed è qualcosa che sarà importante principalmente per la rubrica quella di scrittura interattiva scrivere una quest ma anche in linea generale per tutto quello che riguarda il discorso della scrittura delle quest quindi non perdiamo altro tempo questa settimana iniziamo con questo primo video tra un paio di settimane uscirà anche la seconda parte perché sono il video diventava veramente enorme sicuramente vi è già capitato di sentire il termine linea narrativa sia qui sul mio canale sia in generale quando si parla di libri o di film cominciamo col definire che cos'è la linea narrativa una linea narrativa è una catena di eventi logicamente collegati che accadono all'interno di una storia ed è caratterizzata da un suo conflitto ogni storia che sia quella di un gioco di ruolo o di qualsiasi altra forma di narrazione è composta da un insieme di altre storie queste sono le varie linee narrative che intrecciandosi tra di loro vanno a formare la trama della quest del romanzo del film di queste linee narrative una sarà quella che contiene il conflitto principale quella che nel gioco di ruolo viene chiamata la main quest mettiamola così quella sarà appunto la linea narrativa principale nella teoria della narrazione ci sono varie scuole di pensiero per quanto riguardano le linee narrative non ho però trovato niente di specificatamente rivolto ai giochi di ruolo però diciamo che nella mia esperienza sono arrivato a concludere che un gioco di ruolo normalmente ha tre tipi di linea narrativa la linea narrativa di saga la linea narrativa di campagna e la linea narrativa di quest le linee narrativa di saga e di campagna sono linee narrative orizzontali cioè che si estendono per una lunga durata del racconto e vanno ad attraversare vari eventi questa settimana cominceremo a parlare proprio di quelle perché ci torneranno utili per la rubrica dello scrivere una quest se non avete ancora recuperato il video ve lo lascio linkato qua in alto andate a scrivere i commenti perché tra un po dovrò cominciare a scrivere il video successivo e potreste arrivare tardi comunque questa settimana cominciamo a parlare delle linee narrative orizzontali come la titolo del video nel prossimo video che se non sbaglio sarà ad aprile parleremo delle altre linee narrative verticali cominciamo facendo subito un esempio per rendere le cose più chiare e riprendiamo uno degli esempi classici che abbiamo usato anche negli altri video le oramai note truppe al soldo del malvagio barone stanno invadendo il regno del re buono questa invasione passa attraverso un villaggio in cui in quel momento ci sono gli avventurieri gli avventurieri dovranno prima di tutto respingere le truppe del malvagio barone e poi decidere se fortificare il villaggio se far spostare tutti i png quale che siano le loro scelte per questo esempio non è rilevante in questo esempio noi abbiamo due linee narrative orizzontali che saranno le due linee narrative di saga una è quella del malvagio barone che vuole invadere il regno del re buono e una è quella degli abitanti del villaggio che devono sopravvivere alla guerra di queste due linee narrative la linea narrativa principale è quella del malvagio barone perché contiene sia l'incidente iniziale cioè l'invasione del regno sia il conflitto principale della saga cioè la guerra tra la malvagia baronia e il regno buono anche se molto probabilmente a livello di gioco questa non sarà la linea narrativa più importante per i giocatori perché è molto più probabile che quella che vedranno di più sarà appunto quella degli abitanti del villaggio che dovranno aiutare in qualche modo spostare e che molto probabilmente saranno più propensi a seguire se riuscite a farli attaccare emotivamente a questi poveri sfortunati paesani a seconda di quanto questa saga sarà lunga e complessa potrebbero sussistere altre linee narrative orizzontali di saga magari legate a un singolo png del villaggio o a un singolo nemico al soldo del malvagio barone particolarmente rilevante per il party magari gli abitanti del villaggio danno la colpa al sindaco per non aver preso adeguate precauzioni per difendere il villaggio ciccia fuori un altro png che vuole cercare di scalzarlo e i giocatori sono coinvolti in questa faida politica potenzialmente le linee orizzontali di trama sono virtualmente infinite ovviamente più linee narrative sono presenti in una saga più la saga è complessa più è facile che vi sfugga di mano quindi sappiatevi regolare a queste ovviamente andranno affiancarsi tutte le linee narrative della campagna le linee narrative di campagna orizzontali che sono praticamente presenti ovunque nel gioco di ruolo sono quelle relative ai personaggi giocanti ogni personaggio avrà una sua storia una sua motivazione che va quindi a fornire il conflitto principale per quel personaggio e questa storia si estenderà per tutta la durata della campagna magari non per l'intera campagna ma si estenderà per più saghe e molto probabilmente avrà origine persino prima dell'inizio della campagna stessa potrebbe benissimo darsi che in ogni saga ci sia un evento che vada a intersecarsi con le linee narrative di uno o più personaggi del gruppo magari bob il guerriero sta cercando un particolare png che vive proprio in quel villaggio e un altro personaggio ha dei parenti perché lui è nato in quel villaggio e quindi ha una motivazione personale per andarlo a salvare ogni saga e probabilmente ogni quest avrà un qualche tipo di rimando alle linee narrative dei vari personaggi ovviamente però le linee narrative orizzontali dei personaggi non sono le uniche linee narrative orizzontali di una campagna se la saga fa parte di una campagna esisterà anche una linea narrativa orizzontale principale di campagna che andrà a sovrapporsi e integrarsi con la linea narrativa orizzontale principale della saga la linea narrativa principale della campagna potrebbe vedere come conflitto centrale i personaggi giocanti che si oppongono al signore dei lich e magari il malvagio barone è un servitore del signore dei lich o è per qualche motivo legato a lui o magari il re buono è un alleato dei giocatori contro il signore dei lich e quindi per loro è importante difendere le sue terre il malvagio barone ha semplicemente scelto un pessimo momento per attaccare anche in questo caso potenzialmente potrebbero esistere ulteriori linee narrative orizzontali di campagna probabilmente la cosa più classica è che vengano legate a qualche ulteriore png o magari a qualche particolare azione l'unico modo per uccidere definitivamente il signore dei lich e colpirlo con la spada delle mille mazzate e quindi i giocatori dovranno ricostruire la storia della spada scoprire dove è andata perduta e andarla a cercare prima di risolvere il conflitto centrale nulla esclude comunque che al di là delle linee narrative che voi avete preparato in fase estesua della quest se ne vadano ad aggiungere altre legate a qualche elemento di narrazione emergente abbiamo parlato di questo in un altro video ve lo linko qua sopra magari i giocatori hanno inventato qualcosa che per loro è importante o si sono dimostrati particolarmente legati a un png e voi come master avete deciso di farlo diventare un png ricorrente che appare in varie saghe all'interno della campagna diciamo che per questo video la finiamo qui perché è durato fin troppo tenete a mente quello che ci siamo detti questa settimana perché tra due settimane per la rubrica dello scrivere una quest andremo a cominciare a definire quali saranno le linee narrative orizzontali per la nostra quest fino ad allora fatemi sapere ovviamente nei commenti qui sotto se già conoscevate le linee narrative se le utilizzate quando scrivete le quest se utilizzate qualche altro metodo magari migliore se avete un metodo migliore per dividere le linee narrative per quanto riguarda il gioco di ruolo come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche io sono il master CAE noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao ciao